Il contatto e il rapporto tra le amministrazioni comunali di Roma e le amministrazioni abruzzese è stato immediato ed è stata proprio una sorta di continuità di servizi, i vigili urbani, la protezione civile, le municipalizzate che hanno cercato di dare tutto l'aiuto possibile con una spontaneità, una naturalità che deriva proprio dal legame storico tra la terra d'Abruzzo e la città di Roma. Oggi noi affrontiamo una nuova sfida perché l'idea di lanciare questa mostra internazionale dei tesori d'Abruzzo in tutto il mondo attraverso la collaborazione e il partenariato del Comune di Roma significa veramente lanciare una grande idea dei misteri competenti.